In questo periodo di isolamento sociale la musica è così potente da raggiungere ogni casa, ogni persona e famiglia ed è quello che hanno pensato i 49 musicisti dell'Associazione Bandisti del Gargano che diretti virtualmente dal maestro Antonio Falco si sono esibiti nelle loro abitazioni per dare vita ad un momento musicale e rappresentare con note ed armonia la propria terra. Ascoltiamoli. 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 Ascoltiamoli.